quarto suggerimento io oggi voglio andare veloce perché voglio darvi soltanto valore e contenuti quarto consiglio la scelta della varietà chiaramente questa è una scelta che noi possiamo supportarvi ma chiaramente non vogliamo fare delle definizioni così a priori perché come ben sapete continuiamo a ripetere che la cannabis medicinale è una terapia personalizzata e quindi ci possono essere delle linee guida ma poi veramente è l'applicazione caso per caso settimana scorsa abbiamo fatto girare una newsletter che diceva che sono rimaste soltanto due tipologie di qualità con un profilo terpeno fenolico di base indica intendendo la bedica e il pedanius e la pedanius 88 purtroppo però vi devo fare un annuncio e vi devo dare un aggiornamento di queste notizie è appena arrivata la notizia che in realtà è rimasta soltanto una varietà soltanto la varietà olandese il bedica quindi al 14 per cento di thc intorno all'1 per cento di cbd di varietà terpeno fenolico indica ahimè questa è una brutta notizia perché uno corrisponde una non volontà del nostro delle nostre istituzioni a comprendere che vi è una forte differenza delineata e definita proprio dal cosiddetto entourage effect dall'effetto entourage se non sapete quello di cui sto parlando io vi consiglio di andare a seguire il corso cm di primo livello dove proprio parliamo molto bene c'è un intero capitolo che parla proprio dell'effetto entourage che cos'è che cosa vuol dire chi mi segue su questo sa bene che è una problematica avere un'unica varietà una sola varietà con una presenza una predominanza indica perché molto probabilmente da questo ne deriverà problemi di carenza nelle farmacie e chi tra di voi è un prescrittore esperto sa bene che c'è un'enorme differenza definita proprio dalla presenza di determinati terpeni che va al di là della percentuale di cannabinoidi che cosa voglio dire con tutte queste parole voglio dire che spesso si fa l'errore di pensare che l'unica le uniche caratteristiche che vanno a determinare gli effetti di una determinata varietà sul corpo umano siano dettati dalle proporzioni di thc e cbd ma in realtà questo è un grosso errore chi è un prescrittore esperto o chi è un paziente da un po di tempo sa bene che se consuma una varietà sativa la sera è più difficile prendere sonno perché è tendenzialmente eccitante cosa esattamente specularmente contraria con una varietà indica che sono più indicate infatti proprio come mio rilassanti è una varietà che se vogliamo con una definizione assolutamente non tecnica non scientifica va più sul corpo che sulla testa ed è quindi in realtà molto molto utile proprio per i problemi di insonnia ma anche per chi dovesse avere delle problematiche maggiori nel campo psicologico e psichiatrico bene io vorrei andare avanti con il mio quinto consiglio consiglio